Ciao a tutti amici del canale Jesus Playroom, proviamo a fare un altro gameplay su Asphalt 9, l'ultimo aggiornamento uscito a luglio 2021 sul Powerhouse in Realme GT. Proviamo a fare una di queste corse della nuova stagione, ho sbagliato... ...e vediamo come va, vediamo come va, mi sa che mi manca un'auto per superare questo, questo è il nuovo tracciato di Auckland, detto fra di noi non mi fa impazzire eh, comunque il telefono si difende bene, mettiamo anche il turbo, lascio la mia voce al posto della musica così evitiamo i problemi di copyright. come vedete le impostazioni grafiche sono al massimo, il gioco si difende e va una bomba, una bomba... benissimo... direi direi che ci siamo... perfetto... e spero che il video vi sia piaciuto, è un gameplay che avete visto brevissimo ma giusto per capire come si comporta, come funziona questo telefono che al momento è davvero una bomba, in attesa del suo acerrimo rivale, il OnePlus Nord 2 che è stato presentato ieri, e se vi è piaciuto il video mettete mi piace, se non siete iscritti iscrivetevi che è meglio. Ciao a tutti! Ciao a tutti!